Buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento, io sono Alberto Di Martino, sono collegato da Fano, con me come al solito l'amico e collega Giuseppe Fischetti da Taranto. Buongiorno e ben ritrovati, nuova missione. Ci farà compagnia per questa mezz'oretta Alessandro Andolfi che è collegato da Sant'Elpidio a mare. Buongiorno, saluti a tutti. Buongiorno Alessandro, buongiorno e benvenuto. Benissimo, benvenuto. L'argomento che vogliamo trattare oggi fa riferimento ad un termine che è emerso alla gloria delle cronache recentemente con il termine appunto di riconversione e quindi vogliamo affrontare questo argomento dopo che la puntata scorsa abbiamo parlato del prestito garantito dallo Stato come sostegno alle imprese. È stato usato il termine riconversione in maniera se vogliamo un po' impropria perché la parola riconversione fa riferimento sostanzialmente la riconversione industriale nel periodo bellico e post bellico. Quindi in caso, in periodi di necessità, si è visto nei vari paesi europei durante i vari conflitti la necessità e l'ordine da parte dello Stato di far riconvertire la produzione da mezzi agricoli o meccanici in genere a mezzi atti alla guerra. È finito il periodo bellico subito la riconversione all'indietro per tornare a produrre elementi e attrezzature necessarie alla ripartenza economica del paese. In maniera un po' azzardata è stata utilizzata la parola riconversione anche per la nota storia delle mascherine, ma noi vogliamo approfittare di questo termine per stimolare ancora una volta l'imprenditore a porsi un po' una domanda sul fatto se è necessario o meno una riconversione anche pesante del proprio modello di business, cioè riconversione delle mascherine, parliamo sostanzialmente di cambiare il prodotto, ma non viene mutato il modello organizzativo all'interno dell'azienda. Forse potrebbe essere il caso invece di approfittare del momento emergenziale e chiedersi come cogliere, se c'è da cogliere un'opportunità e se non c'è da cogliere l'opportunità, come invece questo momento di ripensamento e anche di fermo, possa invece essere un preludio a un ridisegno del proprio modo di operare. E quindi chiediamo al nostro graditissimo ospite, Alessandro Andolfi, innanzitutto la crisi virus è il fermomacchina, se c'è stato un fermomacchina o comunque sicuramente c'è stata un'attenzione maggiore. La sua azienda lo ha subito o lo ha governato? È riuscito a gestirsi in maniera sufficiente, soddisfacente oppure è ancora in affanno? Guarda, io lo considero come, poi ne entrò magari un po' più nel merito, come una prova antisismica. Quando arriva il terremoto finita, la scossa, andiamo a contare i danni, andiamo un po' a verificare quello che è successo. Tutto sommato l'edificio ha retto per una percentuale superiore al 50%, però questo chiaramente deve un po' farci capire qualcosa di più per il futuro, come giustamente dicevi tu Alberto. Noi abbiamo un'azienda che produce film per imballaggio industriale, alimentare e anche farmaceutico. Partiamo dall'estrusione, riceviamo il granulo di polietilene, di polipropilene, di alta densità e lo trasformiamo in bobina, in fogli, per confezionare le acque minerali, il film termoretraibile, quello che fascia il pacco delle bottiglie, delle sei bottiglie, oppure ci facciamo un film stampato in quadricromia e accoppiato per le confezioni tipo quelle quattro salti in padella della Findus, giusto per darvi un po' un'idea. E poi con questo film abbiamo anche delle confezionatrici dove riusciamo anche a produrre dei sacchetti, sia in materiale in polietilene e anche in materiale biocompostabile, biodegradabile, biocompostabile. Quindi l'imballaggio come regola serve a tutti e quindi la nostra è un'azienda che produce sì imballaggio flessibile, ma è anche flessibile sul mercato perché tutti bene o male possono essere i nostri clienti. La clientela è tuttora abbastanza differenziata e quindi questo un po' ci ha salvato. Però abbiamo visto che il settore che è rimasto sempre trainante e che ha costituito l'ossatura, lo scheletro, le colonne portanti, quello che può essere la colonne in cemento armato di un edificio che dopo la scossa di terremoto è quella che ha salvato la situazione. È stato il settore alimentare e farmaceutico che anzi hanno visto aumentare le proprie richieste. La riflessione è questa, tu parlavi di due opzioni, opportunità oppure ridisegnare quello che può essere il nostro futuro. L'opportunità sì, ci sono anche per noi perché il settore è abbastanza aperto, quindi con l'imballaggio flessibile e le strutture già esistenti abbiamo molta facoltà e facilità anche di ampliare la produzione anche ad altri articoli che prima non erano richiesti e sono, come c'è stato chiesto, anche dispositivi di protezione fatti sempre con film in polietilene anche come guanti per la grossa distribuzione stampati in bobina al rotolo con una produzione automatizzata da non sfigurare di fronte alle quotazioni che vengono dalla Cina perché oggi su questi articoli che prima non erano molto più considerati dobbiamo essere risarciti moralmente quindi il mercato ci richiede una maggiore presenza perché la domanda è aumentata e anche perché dobbiamo riacquistare questa fetta oggi è tutto importante, anche questa fetta di prodotto che prima era molto soggetta al prezzo ma con l'automazione potremmo avere una piccola parte di quello che può essere l'incidenza della mano d'opera quindi in Italia è tutto producibile. Poi quell'altro discorso era quello di un po' diciamo ridisegnare quella che è l'esposizione agli eventi del mercato con la crisi del 2008, con la crisi anche della plastica perché poi c'è stata anche questa piccola bufera che abbiamo superato brillantemente anche con la produzione della plastica biodegradabile compostabile, diciamo tra virgolette che dovrebbe essere più ecologica ma non voglio aprire questa parentesi perché richiede un po' di tempo per l'approfondimento. Comunque tutto sommato nell'arco degli anni con le varie bufere che ci sono state la nostra capacità di adattamento proprio per la natura stessa del prodotto diciamo ci ha sempre dato soddisfazione mentre adesso per il futuro abbiamo considerato che lo scossone è stato un po' più forte soprattutto perché quelle aziende che non erano nei settori relativi all'alimentare e al farmaceutico hanno un po' scaricato sui propri fornitori le conseguenze dei loro clienti perché è mancata, manca oggi in Italia questo concetto etico, siamo tutti sulla stessa barca e quindi inutile trasferire il problema a chi sta sulla barca con te e poi dopo ti deve aiutare a remare. Poi se sei da solo a remare la barca non arriva da nessuna parte mentre tuttora è ancora viva questa cattiva abitudine di mandare le lettere per dire non ci abbiamo pagato quindi non vi paghiamo oppure vedremo quando pagarvi e questa è sinceramente una cosa con cui dovremmo fare i conti dovremmo fare i conti per il futuro se dovesse capitare qualcosa del genere speriamo proprio di no insomma per metterci un po' più a sicuro dei rischi e quindi sicuramente il settore alimentare il settore farmaceutico è quello che vorremmo incrementare ancora di più a discapito di vari settori industriali che sono molto 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 più esposti a questo tipo di imprevisto. Se posso intervenire poi lascio la domanda a Giuseppe. Io ho fatto un po' il quadro sì. Sì sì sono stati toccati diversi aspetti cioè sia un aspetto se vogliamo tecnologico quindi è stato detto io lo posso fare perché ho automatizzato sia un aspetto se vogliamo finanziario ma più che finanziario pare che sia un finanziario culturale mettiamola in termini morbidi in entrambi i casi mi sembrano le cosiddette lesson learn cioè le le lezioni che io ho imparato dovrei da cui dovrei imparare Giuseppe volevi invece aggiungere qualcosa a questo riprendere il termine riconversione la parola riconversione quando viene fuori in un momento molto molto particolare come quello che stiamo attraversando ha un significato e un peso che comunque ci riporta indietro nel tempo e come dicevi tu all'inizio subito pensiamo agli effetti più tragici che è una riconversione solitamente a cui la riconversione segue e quindi ovviamente quello post bellico no quindi o durante il periodo tra virgolette del delle guerre si pensa a dover distrarre quelli che quelli che sono le produzioni abituali per la parte di vita quotidiana per dedicarla a una urgenza questo un po il concetto che viene fuori però noi abbiamo sempre inteso in quest'ultima fase la parola riconversione ed è forse questo quello che dobbiamo cominciare a declinare in maniera più forte più evidente la riconversione come opportunità di sviluppo in questo momento tutto si è azzerato a mio parere abbiamo la possibilità di ripartire e abbiamo inoltre la possibilità che è quella più importante di correggere gli errori fatti quelli che forse credevamo che avrebbero segnato per tutto il periodo e quali probabilmente nessuno avrebbe potuto porre rimedio è brutto dirlo ma in un momento come questo le grandi calamità i grandi impatti che hanno una forte incidenza economico e sociale ci sono venuti in aiuto prima il nostro ospite alessandro diceva noi abbiamo vissuto questo momento come un momento particolare paragonando a ciò che avviene dopo un sisma no siamo in piedi facciamo quello che sappiamo fare andiamo avanti ma qui siamo in un momento di gestione di urgenza e proprio la parola riconversione ci dovrebbe forse aiutare nel comprendere meglio che va la pena nella vita aziendale analizzare tutti quegli aspetti che potrebbero comunque essere un'opportunità del momento e valutati anche sotto un profilo di rischio in questo modo ovviamente io ho la serenità di decidere che cosa posso fare all'interno della mia azienda diversificandomi mantenendo quella che la mia mission e quanto altro ora è chiaro che in questo momento chi ha fatto quella diversificazione che abbiamo ascoltato dalle tv locali nazionali dalla stampa e cioè creare mascherine e quindi l'azienda che faceva pannolini ha detto servono mascherini faccio mascherine lo stesso ha fatto lo stilista gioco armani che ha detto questo momento non faccio moda tradizionale ma do una mano a pesa perché necessario metto e faccio anche io le mascherine quindi è chiaro che qui le competenze le conoscenze hanno fatto la differenza la domanda che io pongo ad alessandro è non sarebbe più giusto in questo momento riflettere e comprendere che le competenze che abbiamo il know how che l'azienda ha sviluppato nel corso della sua vita vale la pena monetizzarlo rinforzarlo valorizzarlo in situazioni di tranquillità di malità aziendali a un sapore diverso a una valenza diversa rispetto alla condizione di urgenza cioè nell'urgenza è chiaro che ognuno prende quello che ha a disposizione e lo fa fruttare senza nessun problema non sta lì a farsi tanti problemi ma in un momento in cui potremmo dire del senno di poi non abbiamo forse a livello imprenditoriale peccato in questo senso cioè non abbiamo sottovalutato le competenze il know how aziendale che forse stiamo riscoprendo in questi momenti cioè detto in soldoni non dovrebbe essere la normalità quello che è accaduto e che oggi chiamiamo riconversione in termini di sviluppo ovviamente beh sicuramente è stata una sveglia questa è esattamente come dici tu ci siamo forse un po lasciati andare e cullare sugli allori perché certi mercati alla fine pagavano rientravano avevano una quota di mercato e in qualche maniera era sì si riempiva il fatturato chiaramente non erano le condizioni migliori da un punto di vista di rischio clientela oppure il rischio aziendale nel momento in cui arriva il terremoto ci siamo resi conto che la struttura non era era una sovrastruttura non era una struttura veramente diciamo ossea no quella che dava la più la maggiore garanzia di resistenza per cui avremmo sì dovuto in passato valorizzare con più impegno con più coraggio forse quello che oggi abbiamo visto che pensavamo poteva darci più sicurezza ci poteva mettere un po più a sicuro da eventuali rischi effetti è un po la tendenza no quella di sedersi sulla consapevolezza che le cose vabbè tanto vanno però tutto sommato il fatto di aver suddiviso in tanti settori settori di mercato e questo è stata in ogni caso una scelta vincente perché dividendo il rischio abbiamo contenuto diciamo il danno al massimo insomma per quello che c'è stato dopo è anche vero che l'Italia forse gli italiani non hanno questo senso civico così spiccato è sicuramente un comportamento diverso un comportamento che poteva anche essere moralizzato da parte del governo da parte degli interventi televisivi dagli appelli che sono stati fatti alla nazione perché mentre si diceva sì restate a casa io penso che dovevamo anche dire salviamo quello che ci siamo portati sulla barca perché siamo tutti nella stessa barca e quindi rispettiamoci gli uni gli altri perciò il senso è etico di non scaricare sugli altri i propri problemi era quello che sicuramente avrebbe fatto del bene proprio a tutti grazie alessandro grazie ma io credo che a di là delle dell'italianità paghiamo paghiamo lo scotto in generale proprio del del momento culturale mondiale del dell'economia cioè il capitalismo occidentale innestata in questa economia di mercato ha spinto e spinge ancora a traguardare il massimo dei profitti nel più breve tempo possibile quindi questa sorta di short termismo come è stato definito e di guardare alla bilancio del trimestre di stringare abbassare i costi quanto più possibile di avere i processi famoso processi processo snello il famoso just in time cioè tutte le tecniche di buona gestione degli ultimi vent'anni trent'anni hanno portato ad avere delle macchine chiamiamole così che rendono tantissimo ma che sono estremamente fragili e quindi abbiamo l'esempio uscito l'altro giorno sul giornale caso automobilistiche tedesche che si devono fermare perché non gli arrivano i pezzettini dall'italia l'italia che si ferma perché stanno fermi container dalla cina la cina che si ferma perché non gli arriva il petrolio da un altro paese insomma e quindi i mercati i magazzini non esistono più perché sono considerati costi immobilizzati e quindi vanno abbattuti il margine è sempre più spinto i costi sempre più bassi e quindi qualunque altra cosa è vista come un costo maggiore che devo abbattere il risultato è questo il risultato è questo che abbiamo un sistema poco resiliente e cioè un sistema che ha la prima scossarella cade perché non è assolutamente strutturata quindi è forma culturale del manager sicuramente da rivedere vanno considerati non solo il profitto nella valutazione di un'impresa ma anche la sua capacità di dare confidenza di continuità del business a fronte di conseguenze prevedibili io sicuramente sentivo un'intervista recentemente in cui si diceva il rischio lo posso calcolare l'incertezza no è vero però io posso pensare a come reagire a fronte di certe conseguenze poi se questa conseguenza è l'effetto di una causa che io non posso prevedere questo è un altro peo di maniche ma io intanto mi sono posto il problema per esempio che cosa faccio se la logistica non funziona più poi perché si è fermata la logistica lo lasciamo alla cabala di capire che cosa succede quindi Sandro come ultimo passaggio in maniera provocatoria sei stato fortunato o sei stato bravo nel prevenire certe cose io mi ricordo una frase che mi disse mio padre negli anni sessanta forse sessantacinque settanta sì anni settanta quando insomma l'azienda doveva ancora fiorire come è fiorita poi negli anni e pronunciò una frase che mi fece riflettere cui io non avevo assolutamente pensato e diceva l'imballaggio alimentare serve per la necessità delle persone le persone mangeranno sempre e questa è una frase che aveva fatto vedere un po' quella considerazione di mio padre come eccessivamente lungimirante ma che bisogna andare a pensare addirittura che un giorno dovremmo ricorrere al bene primario dell'alimentazione per sperare di non avere crisi e devo dire che invece questa frase è stata profetica perché oggi come oggi possiamo dire di aver superato abbastanza brillantemente il test proprio grazie a questa accortezza che in tempi non sospetti era stata seminata come appunto un seme che oggi ha una buona radice. Mi sembra la classica perla di saggezza popolare di saggezza antica Esatto Giuseppe Sì due considerazioni finali prima di salutarci perché ormai siamo al termine della trasmissione il tempo passa velocemente gli argomenti sono importanti ed è difficile poi approfondirli tutti quanti quindi riconversione forse è la parola poco corretta ma era giusto anche dare un'indicazione di ciò che noi stiamo affrontando perché tecnicamente noi possiamo parlare di riconversione quando un'azienda ha necessità di ampliare il suo settore di produzione e quindi deve sviluppare altri prodotti deve sviluppare nuove tecniche ma questo lo fa con grande serenità e la riconversione è l'ultimo degli stadi che un'azienda va a toccare in un processo di questo tipo certo è che come diceva il nostro ospite nessuno avrebbe mai pensato che un prodotto di forte vendita di grande rotazione perché utilizzato per l'alimentazione poteva essere messo sotto pressione e addirittura potesse rallentare il suo prodotto proprio perché è legato all'alimentazione e noi ne abbiamo necessità per vivere e questo è il forte segnale e anche il dato evidente che la globalizzazione ha modificato gli equilibri sociali oltre che quelli economici quindi oggi più che mai bisogna impostare l'azienda con una logica dove la valutazione del rischio è alla base e tutto il resto non è che sia da meno attenzione però oggi è impensabile poter continuare a lavorare a produrre all'interno della propria azienda senza tener conto di tanti piccoli elementi che purtroppo sono in grado di rallentare e addirittura minare l'azienda seppur storica seppur consolidata perché ci sono delle situazioni che purtroppo sono in grado di sovvertire un normale andamento e vanno a colpire laddove invece molti si credevano al sicuro siamo giunti alla nostra conclusione noi intanto anticipiamo che la prossima settimana questo appuntamento sarà alle ore 17 per dare possibilità a più persone di seguirci quindi martedì e giovedì alle ore 17 sui soliti canali mentre noi rimandiamo per questa settimana a sabato mattina sul canale radio io ringrazio e saluto l'amico alessandro andolfi grazie 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 a tutti buon lavoro saluto a te giuseppe e ci sentiamo quanto prima un saluto a tutti gli spettatori grazie a tutti grazie a tutti